Bisogna fare una maschina fatta in casa con un gesto che vengono tutti. Il primo gesto sarà della carta da forno. Delle forbici, due elastici e anche a futericchio. Pieghiamo un pezzo di carta da forno lungo 30 cm. E lo pieghiamo a piega monica, così. Pogniamo l'essenità, la pieghiamo con dentro l'elastico. Così. Poi qua c'è una graffetta. E dall'altra parte faremo la stessa cosa. Apriamo delicatamente la nostra mascherina. Pieghiamo a triangolo e qua ci mettiamo un colpo di graffetta. Ok, la nostra mascherina è pronta. Ricordatevi di cambiarla dopo 30 minuti di utilizzo, perché l'acqua resiste solo a 30 minuti. Ma soprattutto le mascherine lasciamole alle persone infette. Grazie. 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 Grazie.